La trasmissione della RAI e cambiamo argomento. Chi l'ha visto? Premiata al Festival di Avezzano, riconoscimento alla cultura anche per la scrittrice Dacia Maraini. Sentiamo Silvano Barone. Due giorni di musica, spettacolo, grandi ospiti e cultura al XIX Festival Città di Avezzano e premio Civiltà dei Marsi 2013. 2000 presenze nel quattrocentesco Castello Orsini hanno fatto da cornice alla manifestazione condotto da Luca Di Nicola, inviato della trasmissione RAI 1 Mattina. Il premio Civiltà dei Marsi, di cui è presidente onorario il consigliere della RAI Rodolfo De Laurenti, si è stato assegnato tra gli altri alla scrittrice Dacia Maraini. Questa iniziativa dimostra che appunto si può investire sulla cultura, perché la cultura crea coscienza, crea consapevolezza e crea anche un senso di nazione, un senso di partecipazione a una nazione e anche all'Europa. Premio anche a Federica Sciarelli, conduttrice della trasmissione della RAI, chi l'ha visto? Viene premiato chi l'ha visto, perché è un programma di servizio pubblico che da sempre aiuta le persone, le persone in difficoltà, gli anziani che perdono la via per tornare a casa, ma anche insomma si occupa di tematiche come donne che vengono in realtà uccise, vengono occultati i loro cadaveri. Riconoscimenti inoltre a Carlo Conti, Giovanni Floris, Gio di Tonno, mentre per la manifestazione Canora, la palma della vittoria, è andata l'interprete beneventana Lidia Fusaro, che ha vinto con il brano La mia bugia.